buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è venerdì 19 luglio 2021 e iniziamo subito la lettura dei giornali a partire però dall'almanacco del giorno e vedere chi si festeggia oggi ecco qui la grafica eccolo con la sua bella barba bianca e sant'arsenio il grande detto il grande perché ebbe dei ruoli molto molto importanti nell'allora impero visse tra il quarto e il quinto secolo ai tempi di teodosio ma anche degli imperatori arcadio e onorio dove presso cui svolse incarichi molto molto importanti ebbene sant'arsenio quando si accorse poi che l'impero ormai era giunto alla fine e anche la sua opera magari era inutile si ritirò nel deserto egiziano e qui visse per oltre 50 anni da eremita praticando quella che è la povertà evangelica che non si limita soltanto ad una vera disponibilità economiche ma è una sensazione che uno deve provare dall'interno e sant'arsenio la provò totalmente finché non morì appunto solitario come era vissuto per tanto tanto tempo vediamo anche le previsioni del tempo oggi tempo stabile e ben soleggiato sulle marche clima sempre caldo e anche afoso umido il che vuol dire che la sensazione che si prova è superiore al dato reale ebbene le temperature arriveranno ad oltre 33 gradi mentre la minima si è testata a 22 i venti sulle coste espirano da nord nell'entroterra da nord e nord est il mare è leggermente mosso il sole è sorto alle 5 e 41 e tramonterà alle 20 e 45 e allora apriamo i giornali questa mattina a partire dal resto del Carlino dove vediamo una intervista che sebastiano clappis fa a l'assessore agli eventi e alle manifestazioni e alberto santorelli il quale dice abbiamo fatto bene a sfrattare l'alma il fano calcio infatti non è più autorizzato a utilizzare lo stadio mancini abbiamo fatto né più né meno quello che un buon amministratore pubblico avrebbe dovuto fare dice santorelli agendo con diligenza coscienza per il bene delle casse pubbliche e per stroncare una situazione che non era più tollerabile insomma dice il giornalista siete intenzionati ad aprire un nuovo corso se il consorzio fano sport sarà bravo a creare le giuste sinergie penso che potremmo cambiare la storia dello sport di fano e il consorzio fano sport è costituito da un notevole gruppo di imprenditori i quali si occupano non solo di calcio ma anche di altre discipline sportive per creare maggiore sinergia e per creare maggiore dunque per dare maggiore impulso a tutti gli sport che si praticano nella città di fano e vedremo dunque sorgere una nuova società sportiva per quanto riguarda il calcio e partirà dall'inizio ma speriamo che ben presto arrivi ad alte ad altri ruoli ad alte classifiche una notizia di cronaca a fondo pagina ieri pomeriggio ieri sul tardo pomeriggio si è verificato un grave incidente sulla statale tra fano e pesaro una moto con a bordo un 51enne e nel sue spalle aveva il figlio di 18 anni si è schiantato contro una auto che la precedeva era un'auto che stava facendo una manovra sulla sinistra per parcheggiare all'altezza non molto lontano dal Kenwood Beach per intenderci non molto lontano nemmeno dalle casette di camussi ebbene qui è accaduto questo grave incidente la motocicletta si è ribaltata gli occupanti sono stati sbalzati sono caduti in un fosso e li hanno riportato purtroppo gravi ferite per soccorrere il 51enne atterrata l'eliambulanza sulla statale e poi ha trasportato il ferito nel più attrezzato ospedale di torrette di ancona purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare e poco dopo è deceduto il figlio invece è stato trasportato con la croce rossa all'ospedale san salvatore di pesaro mentre l'autista della panda questa era la macchina che è stata coinvolta nell'incidente è stato trasportato con un'altra ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale santa croce tutti e tre erano al momento in condizioni piuttosto serie sono intervenuti gli agenti della polizia locale di fano i quali hanno dovuto chiudere la statale per fare atterrare l'eliambulanza e per prestare il soccorso ai feriti e questo ha creato delle lunghe file lunghe file verso pesaro lunghe file verso fano per un'ora gli automobilisti hanno sostato prima di poter ripartire e questo ovviamente ha creato molti molti disagi ma purtroppo non c'è stato altro da fare e poi come se questo non bastasse ci sono verificati altri incidenti nella giornata di ieri sempre ieri gli agenti della polizia locale hanno rilevato nel pomeriggio un incidente a bellocchi dove un motociclista di 65 anni ha tamponato una punto guidata da un sessantenne che si era fermata al centro della careggiata per voltare a sinistra per evitare l'impatto il 65enne ha perso il controllo della moto finendo a terra ancora prima dell'impatto riportando ferite però non preoccupanti in questo caso e poi vediamo come il corriere adriatico riporta questa notizia vediamo che c'è stato anche un terzo un terzo incidente lo vediamo qui sempre ieri intorno alle 13 un automobilista a bellocchi ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro la centralina del gas di un condominio della decima strada richiedendo un intervento per la messa in sicurezza della centralina anche lui non è in gravi condizioni insomma veramente una giornata da dimenticare quella di ieri sarà forse il caldo a foso sarà forse l'aumento dei mezzi in circolazione siamo nella alta stagione turistica e quindi l'afflusso del traffico nelle zone della riviera è aumentato considerevolmente vediamo le altre notizie ritorniamo sul resto del carlino vediamo che ieri è stato presentata la 63esima edizione dei concerti d'organo di santa maria nuova che dal 1962 animano i venerdì sera del mese di agosto in collaborazione con la comunità dei frati minori i frati che gestiscono appunto la chiesa di santa maria nuova e ci sono molti esperti di grande valore organisti che presenteranno questi concerti quest'anno la rassegna partirà il 2 agosto con l'esibizione di roberto canali i concerti saranno 5 previsti per tutti i venerdì e vedranno la partecipazione non solo di organisti italiani ma anche di organisti che sono celebri all'estero e quindi proverranno da altre nazioni poi passiamo ad un'altra apertura un'altra apertura che riguarda un pofano ma riguarda soprattutto pergola Don Ruggeri anche pergola dice di no il sindaco la comunità è scossa c'è stata una raccolta di firme e anche un dossier in Vaticano il vescovo non ho parlato con Don Giacomo insomma c'è una una rivolta diciamo così per la decisione del vescovo di fare tornare Don Giacomo nel nostro territorio insomma la gente fatica a perdonare per quanto è avvenuto anche se il perdono dobbiamo dire dovrebbe essere una delle massime della religione cattolica emissione per conto di Dio e l'impresa appare non dura ma durissima per Don Ruggeri sì ha sbagliato ha sbagliato è stato allontanato per tanti anni e forse nei suoi confronti non dovrebbe essere pronunciata una sentenza capitale per modo di dire in quanto è drastica in quanto è assoluta e beh ognuno poi ha la sua coscienza veniamo alle altre notizie il museo del Bali compie 20 anni da domani eventi e tante sorprese quest'anno il museo del Bali compie questa significativa questo significativo compleanno e il suo staff ha deciso di festeggiare un importante traguardo nella giornata di domani di domani ci saranno tante tante iniziative a iniziare dalle 17 ci sarà l'inaugurazione della mostra spazio al sistema solare una mostra che sarà molto di più di una semplice esposizione di oggetti ma ci saranno tante tante sorprese perché poi il museo del Bali è un museo un po delle meraviglie un museo dove si capisce come funziona l'universo come la terra è soltanto un piccolo puntino rispetto ad un enorme galassia che si espande tra mille altre galassie che ruotano attorno ad un mistero che è quello dell'origine del nostro universo proseguendo sulla scia astronomica saranno inaugurati un nuovo spazio per le attività di approfondimento e nuove prestazioni postazioni interattive che rendono il museo non solo un museo da guardare da osservare ma un museo col quale interagire tutto pronto a san costanzo per la tradizionale sagra polentara anche d'estate la polenta è un cibo e una specialità gastronomica che attrae tanta tanta gente e a san costanzo sono pronti 170 volontari per realizzare questa festa si inizierà stasera alle ore 18 in piazza san pio con l'iniziativa aspettando la polenta ci sarà animazione musica e poi anche altre specialità gastronomiche e poi la farina di mais che pioverà come una pioggia nel caldaio fumante per una pietanza tipica con un sugo veramente sopraffino che renderà ancora più gustoso questo piatto che i polentari fanno con sapienza a san costanzo a urbino c'è una polemica per quanto riguarda la gestione del bar dello stadio l'opposizione denuncia è stata affidata la gestione alla società dell'urbino quando era presidente il consigliere comunale andrea pazzaglia della lista gambini insomma questa gestione era stata affidata all'associazione urbino calcio il contratto era stato firmato il 26 ottobre del 2021 dal presidente della squadra andrea pazzaglia che si impegnava a versare al comune un canone anno di 4.500 euro ebbene questa gestione non è piaciuta in modo particolare a gianluca carrabs di alleanza verdi di sinistra e socialista che considera questo contratto nullo in quanto incompatibile essendo pazzaglia in quel momento e anche ora consigliere comunale quindi ci dovrebbe essere una sovrapposizione di incarichi che dovrebbe così influire anche su questo contratto a giudizio di carrabs a palazzo ducale in mostra il volponi corporale abbiamo già parlato di questa mostra nella rassegna stampa di ieri palazzo ducale dopo il barocci ha anche questa mostra di quadri che sono il resoconto dell'ascito di volponi le opere d'arte che volponi ha lasciato alla sua città il piacere di aggiudicarsi alle aste londinese ben 11 quadri è qualcosa di vertiginoso così scriveva paolo volponi che assicurato alla sua città un tesoro veramente di grande pregio vediamo anche quest'altro articolo che proviene da urbino guazzolini urbino ha un calendario di eventi si era reproverata l'amministrazione comunale di non avere un calendario composito di eventi ma ad insistere evento per evento ad ogni manifestazione in realtà il neossessore al turismo guazzolini replica a scaramucci che aveva così espresso questo giudizio negativo e dice sono pronto a parlare anche con lui comunque urbino ha un calendario di eventi un calendario con tutte le manifestazioni che sono state programmate per questa estate vediamo anche la pagina di pesaro dove si parla del paglio dei braceri e c'è una decisione drastica assunta dall'amministrazione comunale infatti il sindaco biancani ha fatto marcia indietro nel sostenere l'associazione che gestisce questo evento non diamo più fondi all'associazione l'associazione e l'opera maestra la quale si è fatta carico della organizzazione questa manifestazione che ha coinvolto tantissimi tantissimi pesaresi il comune dunque cosa fa chiude il rubinetto il sindaco fa marcia indietro e taglia i fondi a opera maestra ebbene 13 giorni prima aveva ricevuto un fondo un contributo di 50 mila euro per l'organizzazione del paglio dei braceri questo paglio che si tiene dal 25 al 28 luglio invece adesso niente e questi questi fondi si ritirano questi soldi si ritirano e la opera maestra dovrà organizzare accedendo magari ad altre fonti di finanziamento per quanto riguarda questa manifestazione che comunque verrà fatta perché insomma è una delle più importanti ormai in breve tempo assunto veramente un ruolo leader nella città di pesaro pensate cosa vuol dire costruire una casa a 33 ma anche a 38 gradi di temperatura fare il muratore oppure fare qualsiasi altro lavoro che comporti uno sforzo fisico considerevole ebbene veramente deve essere un compito non poco gravoso e oggi il resto del calino si dedica dedica un articolo ai lavoratori che fanno questo mestiere lavorare stanca a 38 gradi ci credo accidenti scottature grandi sudate acqua sali e frutta per resistere il ciclista di urbico e così da tre anni ormai ci ho fatto l'abitudine col magnesio e col potasso che sono quelle sostanze che reintegrano i sale minorali che si perdono con la sudorazione i muratori per fortuna al mattino approfittiamo dell'ombra ma che cappa ebbene i lavoratori lavorano dalle sette fino alle sedici del pomeriggio con un breve break per quanto riguarda il pranzo sono nove ore al giorno che si lavora c'è una attenzione puntata sulle cantiere di via manzoni a pesaro dove gli operai dicono che la nostra fortuna è che la mattina quando è già caldo la casa su cui lavoriamo ci fa ombra ma dal pomeriggio quando il sole si sposta la fatica si fa sentire di più per assurdo si sta meglio a lavorare fuori che dentro casa beh immagino dentro casa c'è una cappa di caldo che permane e quindi si fa più sentire ma anche fuori insomma sotto il sole non si lavora e questo dobbiamo tenerne conto perché poi fare il muratore è un lavoro è un lavoro rispettabilissimo ma è un lavoro molto molto gravoso abbiamo parlato dell'incidente che si è verificato ieri pomeriggio sulla statale Fano Pesaro il resto del Carlino ci informa anche su un altro incidente che è avvenuto in zona mare a pesaro dove uno scooter si è scontrato con una auto in viale della vittoria vicino alla rampa del cavalca ferrovia e lì è ferito un centuario ma è morto un settantenne è deceduto mercoledì scorso il settantenne la guida dello scooter che martedì scorso è rimasto coinvolto in un tremendo scontro tra due scooter in viale della vittoria all'altezza della intersezione con via leonardo da vinci era stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di torrette di ancona ma anche questo centauro purtroppo è deceduto ancora pusher al parco e dei ladri di biciclette ebbene il parco mira al fiore sempre sotto il controllo delle forze dell'ordine le quali non passa giorno che non facciano un'azione e appunto portino in galera oppure in commissariato oppure nella stazione dei carabinieri qualche malvivente l'altro ieri un nuovo intervento per contrastare lo spaccio di droga un giovane extracomunitario è stato denunciato per aver ceduto un grammo di ascis ad un ragazzo che è stato poi controllato dalla polizia vediamo anche il corriere adriatico la cui apertura è dedicata alla sanità alla sanità 50 posti letto test per ser Filippi in consiglio c'è il tema caldo della sanità c'è una nuova seduta la seconda del consiglio comunale di Fano dopo l'insegnamento di tutti i consiglieri convocata per lunedì prossimo ebbene ci sono già tutta una serie di interrogazioni e tra cui si parlerà anche di sanità la sanità è un po' una nota dolente di questa giunta ancorata con la giunta regionale a cui poi fanno capo tutti i disservizi che i pazienti lamentano per quanto riguarda l'assistenza sanitaria la mobilità passiva e il lungo tempo per ottenere una visita per ottenere degli esami insomma via dicendo e vedremo come appunto il sindaco ser Filippi cercherà appunto di fare da tramite tra questi cittadini che si lamentano e il suo assessore alla sanità saltamartini per cercare di risolvere questo problema e di porre Fano in una situazione più confacente alle esigenze della sanità non solo cittadina ma anche territoriale un ubriaco invece contro i passanti in tasca a un coltello è stato individuato durante un giro di controllo fatto dalle forze dell'ordine nel centro storico di Fano insomma vediamo come il centro storico venga tenuto sempre sotto controllo infrastrutture ora occorre un'alternativa alla adriatica abbiamo una presa di posizione della CNA l'associazione di categoria che nel fare gli auguri di lavoro alla nuova giunta elenca tutta una serie di priorità programmatiche facendo appunto affidamento alle priorità programmatiche di tutto il centro destra ma ricordando al sindaco quelle che sono i provvedimenti più urgenti da assumere per esempio quello di un'alternativa alla viabilità esistente tra Fano e Pesaro l'abbiamo visto adesso con l'incidente che è accaduto ieri sera quando si è dovuta chiudere la statale se c'era una via alternativa il traffico poteva procedere senza fermarsi e poi abbiamo i problemi del porto abbiamo i problemi dei parcheggi insomma la CNA fa una bella lunga lista della spesa presentarla poi all'amministrazione comunale San Costanzo fogne lavori per 4 milioni e mezzo finanziati in parte dal PNRR Marche Multiservizi interviene appunto a San Costanzo per uscire dalla infrazione europea vediamo un'ultima notizia quella di Senigallia cugini di campagna più articolo 31 due complessi veramente famosi a livello nazionale Senigallia non smette mai di ballare non smette mai di organizzare iniziative di attrazione e di intrattenimento perché sa benissimo che il turismo è una delle fonti primarie di finanziamento della propria economia ieri c'è stata la festa per i 91 anni della rotonda con la band oggi il clou con gli X-Master e gli J-AX e gli DJ Jed e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.